Presidente Grasso, i giovani archimedi protagonisti di Zero Hackathon affronteranno sfide importanti tra le quali la lotta ai crimini ambientali, che lei ha definito furti di futuro. Quale, secondo lei, è la linea prioritaria da seguire nel nostro Paese per la tutela penale dell'ambiente? Noi abbiamo recentemente nel Parlamento italiano approvato una legge che ha trovato il consenso pressoché unanime di tutte le forze politiche. È una legge che attendevamo da tanti anni, proprio per far comprendere che la tutela dell'ambiente è qualcosa di importante per il futuro del nostro Paese, ma del mondo. La parte repressiva della legge è assolutamente innovativa, ma lo spirito che più ha ispirato questa legge è quella che si deve cercare di mantenere l'ambiente. E quando è stato violato, più che il carcere, la repressione, è necessario ripristinare l'ambiente. E quando questo avviene, ecco, abbiamo cercato di recuperare il più possibile il nostro pianeta. Qual è la sfida che lei vorrebbe lanciare oggi ai giovani provenienti da tutto il mondo per un futuro sostenibile? Io credo che la sfida maggiore potrebbe essere la consapevolezza, cioè avere questa consapevolezza di essere responsabili del futuro del mondo. Nel senso di agire non come coloro che subiscono la storia, ma coloro che la creano, che siano protagonisti della storia del mondo. E noi, io credo da sempre nei giovani, credo nel loro entusiasmo, nella loro voglia di fare, di combattere le ingiustizie, di cercare di coinvolgere anche gli altri giovani. E questo penso che sia la sfida più importante, essere uniti e trascinare i loro coetanei in questo impegno, che deve essere un impegno comune, per poter creare una sorta di catena dell'impegno che coinvolge i giovani di tutto il mondo per un futuro sostenibile. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie a voi.